Non è possibile che a distanza di ormai quasi cinque anni dall'insediamento all'attuale amministrazione comunale si si confronti ancora col problema del randagismo a Ragusa e non è possibile che a distanza di così tanto tempo continuiamo a ricevere chiamate agli insediati alla zona artigianale in contada a Mugno, a denunciare la consigliere di insieme Elisa Marino, la quale sottolinea ancora una volta l'assoluta incapacità della giunta di Ragusa nel vivere a capo di questa difficile situazione. Si è vero, afferma la consigliera, risale appena da un paio di giorni la comunicazione del comune con cui si dava notizia dell'affidamento al servizio di ricovero, cura e mantenimento dei randaggi ad un'azienda di caserta, ma l'emergenza che si registrava mesi fa continua tuttora a manifestarsi. Non solo, resistiamo anche, dice Elisa Marino, l'assoluta impreparazione degli operatori di Palazzo dell'Aquila a fronteggiare le situazioni che di volta in volta si presentano, come quella di qualche giorno fa che è stata segnalata di anzi al parcheggio di un centro commerciale dove qui un cane di media taglie stava cominciando a dare fastidio ai visitatori. L'intervento non ha garantito comunque risposte esaustive, per cui conclude la Marino la conclusione che chi ha segnalato il problema avrebbe dovuto farsi carico della custodia del cane. Adesso ripetiamo che non è possibile continuare a confrontarsi con una tale situazione.